La bandiera blu compie 30 anni e torna a sventolare sul mare del nostro sud. Anche se i nomi delle località sono ancora top secret fino alla consegna del vessillo il prossimo 8 maggio a Roma, al momento l'arrivo degli inviti alla cerimonia ai sindaci delle cittadine premiate negli anni passati fa ben sperare per la conferma nel 2017 dell'atteso riconoscimento della qualità delle acque. Per Maratea sarebbe il ventunesimo anno consecutivo, commenta il primo cittadino Domenico Cipolla. La FEE continua ad assegnarci una posizione rilevante in questa importante classifica e questa attestazione di qualità è un premio per una politica attenta al territorio e alle sue acque. Ne siamo lusingati ma al tempo stesso il riconoscimento ci responsabilizza a fare sempre più e meglio per la nostra Maratea. Nessun particolare scossone dovrebbe arrivare dalla consegna 2017 nelle bandiere blu. 11 erano le località che l'anno scorso vennero premiate. Capaccio, Agropoli, Pollica, Castellabate, Monte Corice, Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Camerota, Centola, Vibonati e la New Entry San Mauro Cilento dovrebbero essere quest'anno tutte riconfermate. Gli inviti in effetti sono arrivati. In più per il 2017 si potrebbe centrare il record di vessilli raggiunti perché dovrebbe tornare a freggiarsene anche Sapri, l'anno scorso clamorosamente esclusa per dei valori delle acque solo buoni e non eccellenti in alcuni punti di prelievo. La cittadina della Spigolatrice in realtà quest'anno per la prima volta punta ad un doppio riconoscimento avendo fatto istanza anche per ottenere la bandiera blu per via Prodi, un premio al porto dunque. Fino a qualche tempo fa spina nel fianco della cittadina ma che per partecipare alla selezione ha dovuto dimostrare di possedere tutta una serie di requisiti anche stringenti sul fronte dei servizi, della cura dell'ambiente, della sicurezza e della gestione. Una sfida dunque aperta per Sapri che renderà più avvincente l'attesa dell'8 maggio. Ci sono invece poche speranze che Ispani riesca ad entrare nel gruppo delle favolose località marine cilentane dove sventola la bandiera blu. Quest'anno il Comune ha inoltrato domanda per la prima volta per vedere riconosciuta la qualità delle acque della frazione Capitello ma da indiscrezioni al momento sembrerebbe non essere riuscita nell'intento. Bisognerà però attendere l'8 maggio per averne la certezza e comprendere anche i motivi dell'esclusione.